Superata la soglia dei 1.600 contagi oggi in provincia di Ragusa, di preciso 1.618 positivi in totale di cui 1.544 in isolamento domiciliare, 57 ricoverati e 17 nella RSA di Ragusa. Purtroppo altri due decessi nelle ultime 24 ore, una Ragusa di 71 anni e l'altra Vittoria di 72 anni. Ma nel dettaglio i contagi. Acate 30, Chiaramonte 18, Comiso 263, Giarratana 11, Ispica 25, Modica 121, Monte Rosso 8, Pozzallo 83, Ragusa 421, Santa Croce 52, Scicli 71 e Vittoria 441. Nonostante ci sia una gran parte d'Italia gialla dopo il cambio di colori nelle regioni italiane, la Sicilia rimane fino al 9 di maggio arancione, anche se c'è il concreto rischio che l'isola rimanca semi-blindata fino al 16 di maggio, giorno tra l'altro in cui è previsto l'avvio della stagione balneare come stabilisce l'ordinanza, concordata con l'assessore all'ambiente Totò Cordaro, firmato dal governatore Nello Musumeci. Tutto dipende dai numeri dei contagi, la Sicilia purtroppo continua ad avere continui sbalzi di impennata. L'ultimo monitoraggio ha evidenziato nell'isola un indice di trasmissibilità ancora superiore a 1. Ieri sono stati mille nuovi positivi al Covid in Sicilia, con un'incidenza del 3,7%, ancora leggermente superiore alla media nazionale. La regione è quinta in Italia per numero di contagi giornalieri. I morti sono stati 10. Bisognerà vedere se sulla curva epidemiologica dell'isola ci saranno riflessi delle ultime festività, il 25 aprile e il 1 maggio, che hanno inevitabilmente portato a nuovi assembramenti. Intanto, parlando di vaccinazioni nel ragusano, si sono superate le 100.000 somministrazioni di vaccini. Il direttore generale dell'ASP, Angelo Aliquo, ha dichiarato che la strada è ancora lunga, ma stanno facendo il possibile per fare sempre di più. Si punta adesso a poter vaccinare anche i più giovani. Due sorelle, entrambe in gravidanza, scoprono all'ospedale di Gela di essere positiva al Covid. Dopo aver picchiato un ostetrico, sono riuscita a fuggire, ma subito rintracciate e denunciate. È successo sabato sera. Le due donne hanno raggiunto l'ospedale di Gela perché accusavano alcuni malesseri. I tamponi rapidi hanno dato esito positivo, confermati poi da quelli molecolari. Le sorelle, apprese alla notizia della positività e dell'obbligo di quarantena che ne consegue, sono andate in escandescenza. Ne è seguita la fuga dal pronto soccorso infettivologico dell'ospedale. Una volta rintracciate, sono state denunciate.